...famiglie nobili, non certamente famiglie del popolo, venivano educati alla gentilezza, alla cortesia, all'amore proprio dalle dame di corte. Ecco qui c'è un'immagine medievale dove viene rappresentato questo ballo al suono dell'arpa e questo giovane che è accompagnato da due dame. Poi però c'era, come è già stato detto, il castellano che invece educava il giovane al valore, al coraggio, alla lealtà e quindi preparandolo a questa missione della cavalleria. Qui c'è un'immagine appunto del castellano che riceve il giovane, come è stato detto prima con le mani giunte insieme e quindi lo riceve e questo scudiero, vivendo questa atmosfera appunto delle corti, realizzava uno stato d'animo diciamo gentile, superiore, anche dedito al misticismo. E la donna veniva in qualche modo anche idealizzata, ma donna, mia donna, non è il significato cristiano moderno che viene dato alla madre di Gesù. Era proprio la mia signora, Notre Dame, poi dopo, nella Francia. E quindi anche il bestiere, diciamo, della cavalleria e dell'uso delle armi era una scuola sacra. Il cavaliere aveva il dovere di proteggere il debole, la vedova, l'orfano e quindi di elevarsi proprio in virtù per diventare poi appunto un futuro cavaliere. E quindi in questo periodo medievale nascono questi giardini di corte, adesso qui c'è una rappresentazione medievale proprio del giardino della corte E' quello che viene anche chiamato giardino d'amore, in arte nel tardo gotico, il gotico cortese, cioè che appunto nasce nelle corti. In Italia, in Francia ma anche in Italia, ci sono queste signorie, no, dei Visconti, della Scala, Malatesta, Montefeltro, eccetera, dove appunto abbiamo anche noi le nostre corti. E in questo periodo nacquero le grandi correnti di pensiero che sono legate alla cavalleria, quindi ai catari, agli albigesi e anche ai templari. Eredi appunto di questa tradizione che è contemporaneamente gnostica e neoplatonica. Per esempio, questo, al fratello Seri lancio questa idea, pochissimo si parla di questa scuola neoplatonica di Chartres, la scuola di Chartres, che nasce intorno all'anno 1000, dove Fulberto di Chartres, che era, diciamo, discepolo di Gerberto d'Origliac, che poi diventerà Silvestro II, il famoso Papa Mago, no, ha dato inizio proprio a questa grande scuola, da dove molto probabilmente hanno attinto anche queste corti. Ed era una scuola neoplatonica, quindi molto precedente all'Accademia Platonica Fiorentina, come prima è stato ricordato. Siamo nell'anno 1000. Ecco, allora, alcuni personaggi che appartenevano a questa cavalleria, non certamente tutti i cavalieri, per sfuggire anche a persecuzioni in epoche successive. Ricordiamo il famoso 13 ottobre 1307, quando i Templari furono catturati in una sola notte, e quindi poi l'ordine fu sciolto con una bolla papale. E allora, ecco, molte forme presero diversi aspetti, molte forme che si ricollegavano a questo concetto, no, cavalleresco, sia di amore, no, che però anche di cavalleria sacra, e appunto arriviamo ai fedeli d'amore, che in Italia, no, sono, diciamo, famosi cantori, poeti, legati principalmente alla figura di Dante. E in Francia, però, abbiamo la civiltà occitana, dove appunto anche la cavalleria, la poesia, sono famosi, no, le yi d'amour. In Italia, invece, abbiamo appunto il dolce stil novo, e quindi la donna, la presenza femminile, così carica appunto di significati anche spirituali, era in perfetta analogia a quello che appunto avveniva in Francia con i trovatori, e con, che erano, diciamo, perfetti catari, catari sapete che significa puri, no. Beatrice, qui c'è un'immagine molto bella di Dante con Beatrice, fa parte di questa schiera di donne allegoriche, care appunto ai poeti del dolce stil novo, e quindi continuazione di questa tradizione che raffigura anche non solo l'amore, ma la saggezza, la sapienza. E quindi qui ritorniamo all'origine, diciamo, gnostica, che accomuna templari, ma anche la tradizione sufi. Ricordiamo che i templari avevano avuto contatti in Oriente con le crociate, con la cavalleria sufi. E, però, ritornando in Italia, Dante è il massimo esponente della poesia d'amore, del cosiddetto dolce stil novo, che è molto affascinante se noi lo andiamo a rileggere. Io ho frequentato il liceo classico, però del dolce stil novo so poche cose, e quindi, perché naturalmente non c'è il tempo, no. Di solito Dante è famoso per la Divina Commedia, e quindi si tratta principalmente della Divina Commedia. Il dolce stil novo rimane un po' da parte, invece bisognerebbe andarlo a rivedere. Quindi, c'è questa figura della donna Angelo, che, appunto, noi vediamo anche, non solo nel dolce stil novo, ma anche nella Divina Commedia. Quindi, la donna, la rosa, la cerva di Cecco d'Ascoli, ricordiamo Cecco d'Ascoli, marchigiano, io vengo dalle Marche, era in collegamento con Dante, anzi, alcuni dicono che lo stesso Cecco d'Ascoli appartenesse alla famosa seta dei fedeli d'amore. Ecco, comunque, tutti questi simboli rappresentano, appunto, l'amore e la saggezza delle antiche tradizioni, dobbiamo dire. Ecco, in Francia troviamo Le Romane della Rose, che ci parla dell'amore, ma in senso allegorico. Allora, Le Romane della Rose fu iniziato da Guillaume de Loris nel 1237. Il seguito fu ripreso e poi però ebbe un grande successo in tutto il Medioevo seguente. Il romanzo, appunto, costituisce proprio un legame tra la tradizione esoterica universale, quindi anche la tradizione ermetica, alchemica, gnostica e neoplatonica, con quella che poi viene dopo, con quella, cioè, dei Rosa Croce. Tutto il poema narra, appunto, con queste imprese dell'amà, per conquistare la Rosa, che è l'allegoria, appunto, della donna amata. Quindi, da quest'epoca, diciamo, la Rosa viene presa proprio come simbolo di questa donna idealizzata. e questo amante deve combattere contro queste passioni contrastanti dell'orgoglio, della vergogna, del pudore e alla fine, però, con l'aiuto di Venere, che è appunto la personificazione della Dea dell'Amore, riesce a penetrare nel castello e a consumare, appunto, questo atto d'amore. Le confraternite che nascono in Italia come fedeli d'amore erano rette da un presbitero, un anziano, che aveva il compito di valutare questi giovani promettenti che chiaramente si segnalavano per la loro bellezza, ma anche per il valore spirituale, per la nobiltà d'animo. Le confraternite erano visitate a turno da questi maestri, maestri d'amore, che erano dei veri e propri iniziatori e questi maestri erano in possesso di segreti alchemici, spirituali, che derivavano appunto da questa conoscenza, no, delle tradizioni che dicevamo prima e quindi decidevano loro se ammettere questi giovani all'interno della confraternita. Quindi questi giovani proposti per l'iniziazione venivano accostati da questi fratelli o servi d'amore, venivano anche chiamati, che reggevano queste corti, che un po' davano la direzione di queste corti d'amore. Dante Alighieri, Jacopone Dattodi, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Dino Compagni, Guinizelli, Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, furono tutti legati a questa, diciamo, scuola, a questa confraternita dei fedeli d'amore e furono maestri d'amore. Ecco, i loro versi, le opere, nascondono segreti, relativi proprio a questo concetto di mettere insieme l'amore e la saggezza, che è, diciamo, se vogliamo rappresentata da Sofia, dall'immagine di Sofia, che mette insieme appunto tutte e due le cose. Donne che avete intelletto d'amore di Dante e anche l'altra poesia famosa, tanto gentile, tanto onesta, pare la donna mia, quando è l'altrui saluta. Ecco, sono proprio indicazioni per iniziati, cioè le donne che hanno intelletto d'amore sono gli appartenenti alla confraternita. Qual era l'intento di questi fedeli d'amore? Era di realizzare questa bellezza, bellezza pura. Ricordiamo nella tradizione platonica il bello in sé, uno degli obiettivi della narrazione platonica. E questa bellezza pura doveva poi esprimersi nella vita. Quindi, con la Madonna il culto era relativo proprio a questa grazia divina che si rileva appunto, come è già stato detto, nell'anima del mondo anche, nella psiche, nella Vergine Madre. in questa magna mater che è diciamo nella natura. E quindi questi fedeli d'amore in una interrotta catena si riunirono proprio al servizio di questo concetto, di questo ideale della bellezza pura dell'amore senza non curandosi degli ostacoli. Io vidi gli occhi dove amor si mise cavalcanti. Bisognerebbe andarsi a rileggere queste bellissime poesie. I fedeli d'amore appunto erano presenti però un po' anche in tutta Europa, in Italia, in Francia, in Belgio. come abbiamo già detto c'è questa figura della pistis sofia gnostica che la stessa Beatrice potrebbe rappresentare ma c'è anche attinenza con le famose vergini nere che sono in questo periodo molto presenti in tutta la Francia ma non solo in Francia ma anche in Italia. una per tutte è la Madonna di Loreto che è proprio vicino a casa mia. E naturalmente sappiamo il collegamento con la Iside che è rappresentata in quella famosa statua come il bambino in braccio che nutre. E appunto il concetto della grande madre di questa figura femminile che poi adorna le diverse cattedrali europee ecco Guido Cavalcanti la descrive come una giovane donna di Tolosa e quindi c'è questo richiamo alla tradizione dei catari e degli albigesi. Quindi la sapienza amore personificata appunto dalla donna era per Dante Beatrice per Guido Cavalcanti Monna Vanna per Lato Gianni era Laja per Dino Compagni era Madonna Intelligenza per Cino da Pistoia era Selvaggia questi erano tutti domi diciamo simbolici che venivano dati a questa donna sapienza amore la sapienza santa appunto scaturisce dall'intelletto d'amore che Guinizelli con questa sua rima famosa alcol gentil ripara sempre amore cioè suggerisce che per arrivare a questo ideale di amore saggezza è necessario avere un cuore gentile un cuore puro e questo ci richiama adesso mi è venuto questo flash alla bellissima immagine della sala della pesatura del cuore del 1250 avanti Cristo dove il dio Anubis accompagna l'anima trapassata davanti ad una bilancia al dio Thoth e sulla bilancia su un piatto della bilancia c'è il cuore sull'altra la piuma quindi per passare oltre è necessario che il cuore sia più sia leggero come la piuma quindi questa leggerezza del cuore che appunto equivale al cuore gentile del guinitere per i fedeli d'amore quindi questo amore però è duplice abbiamo un amore rivolto ai sensi poi però c'è quest'amore che è rivolto alla parte superiore più spirituale alla contemplazione ed è diciamo il primo ci sono i desideri c'è la passione e il secondo invece innalza a questa angelica contemplazione quindi la divina commedia è proprio se vogliamo una narrazione come Beatrice porta Dante fino in paradiso fino a contemplare appunto la divina sapienza ed amore Guido Cavalcanti questa è una rappresentazione di Monna Vanna si esprime così nella natura d'amore veggio negli occhi della donna mia un lume pien di spiriti d'amore che portano un piacere nuovo al core si che vi desta tallegrezza vita da queste sonette si può capire l'allusione a questa amore saggezza addirittura Dino compagni in questo suo poemetto la chiama Madonna Intelligenza quindi nel dolce stil novo lo dichiara apertamente che questa figura della donna è una figura idealizzata quindi l'amorosa Madonna Intelligenza che fa dell'alma la sua residenza l'anima che fa dell'anima la sua residenza che con la sua veltà ma innamorato quindi è chiaro che se queste poesie vengono lette attentamente come questa di Cino da Pistoia e le parole sue sono vita e pace che è sì saggia e sottile che d'ogni cosa trago l'overace quindi questo riferimento alla sottile saggezza e alla verità non lasciano dubbi nell'interpretare l'idealizzazione della figura della donna però purtroppo ci sono ancora coloro che sostengono che invece non si deve addirittura sostengono che non è esistita questa confraternita dei fedeli d'amore ci sono diversi commentatori io ho letto purtroppo quando Dante appunto scrisse donne che avete intelletto d'amore questo sonetto fa dire alle donne questa frase fin che ti giungerò alla fontana di insegnamento tua donna sovrana quindi questa fontana di insegnamento che definita da Dante donna sovrana che cosa significa è simbolo di una tradizione iniziatica attraverso la quale appunto si trasmetteva la sapienza santa una fonte di insegnamento quindi anche i poeti siciliani Jacopo Dalentini lo vostro amore mi mena dottrina cioè quindi il riferimento a questa idealizzazione della donna si trova in diversi aspetti quindi Cavalcanti Cino da Pistoia Francesco da Barberino Cecco d'Ascoli Guido Orlandi Gianni Alfani però avevano un atteggiamento e per questo che dovevano rimanere in qualche modo nascosti e anche i versi sotto il velame degli versi strani dice Dante i versi delle poesie dovevano rimanere solo per iniziare per esempio la chiesa veniva definita la lupa feroce di Roma per indicare la chiesa e quindi si dovevano proteggere cantare la bellezza della rosa significava per questi poeti esaltare appunto la virtù della segreta saggezza che conduceva appunto nella parte alta spirituale concludo dicendo che i templari come appunto altri cavalieri furono latori di questo messaggio Romano della Rosa a cui si ricollegò la candida rosa di Dante quindi abbiamo anche questo significato simbolico della rosa la donna la rosa mistica dei sufi appunto era simbolo di questa dottrina segreta basata sull'intelletto d'amore quindi amore e saggezza che poi successivamente sarà seguita anche dalla tradizione rosa croce però qui apriamo un altro capitolo concludo con questa frase che l'amore e la saggezza siano di ispirazione per tutti noi grazie a tutti grazie a tutti